Basta silenzio, basta indifferenza, la Chiesa non può tacere né chiudere gli occhi di fronte al nefasto fenomeno dei bambini e delle donne di strada. Vittime di tratta, prostituzione, schiavitù. Francesco lo ha ribadito incontrando in Vaticano i partecipanti al simposio internazionale sulla pastorale della strada, ai quali ha chiesto di lavorare e non arrendersi, per rimuovere le cause che costringono i più vulnerabili alla vita arandagia, prima tra tutti la povertà. Loro, ha tuonato il Papa, non sono pacchi da scambiare, ma esseri umani con un nome e un volto, con una identità donata da Dio. Nessun bambino sceglie questa condizione, oggi aggravata dalla carenza di leggi, però ognuno di questi piccoli ha ripetuto con forza il pontefice, è un grido che sale a Dio, un grido d'accusa contro un sistema sociale che da decenni critichiamo, ma che facciamo fatica a cambiare secondo criteri di giustizia. E un monito per tutti sono le tante e troppe donne sfigurate nel corpo e nella dignità, sfruttate da organizzazioni criminali, ma anche sempre più spesso da parenti e familiari. Tale realtà è una vergogna delle nostre società che si vantano di essere moderne e di aver raggiunto alti livelli di cultura e di sviluppo. La corruzione diffusa e la ricerca del guadagno a tutti i costi privano gli innocenti e i più deboli della possibilità di una vita dignitosa, alimentano la criminalità della tratta e le altre ingiustizie che gravano sulle loro spalle. Nessuno può rimanere inerte di fronte all'urgente necessità di salvaguardare la dignità della donna minacciata da fattori culturali ed economici. Grazie. 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 Grazie.